Amici di Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni. Vediamo a livello europeo cosa accadrà nella giornata di lunedì che vedrà condizioni autunnali alle alte latitudini. Arriva tra l'altro qualche piovasco anche nella penisola iberica. Dalle altre parti situazione abbastanza tranquilla. Sull'Italia avremo una giornata estiva al centro nord. Il sud invece ancora dovrà fare i conti con un po' di variabilità, ultimi acquazzoni e temporali. Entriamo ora più nel dettaglio. Cominciamo dal nord Italia dove il tempo, dicevamo, rimarrà bello. Cielo sereno poco nuvoloso e inoltre temperatura ancora una volta oltre i 30 gradi. Nell'Italia centrale situazione anche qua nel complesso tranquilla. Non mancherà qualche nuvole, qualche breve piovasco nelle zone interne di Abruzzo, Molise e Lazio ma fenomeni sporadici. Invece dicevamo al sud, a parte la Sardegna dove il tempo sarà bello e le prime schiarite sui settori occidentali della Sicilia, dalle altre parti non mancheranno acquazzoni e temporali. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com